Ciao a tutti ragazzi, super bentornati sul mio canale, io sono Cecilia del magazine online fashiondogitalia.com e di corso di cucinapercani.it e in questo video voglio rispondere a una domanda che mi fate spessissimo, ovvero aiuto il mio cane distrugge tutte le palle, come faccio, che palla utilizzo, che palla compro? Vi ho fatto vedere in questo periodo tante palle che utilizzo con la mia cagnolina Ellie, soprattutto quelle automatiche, perché lei è una cagnolina di piccola taglia e quindi vanno benissimo per intrattenerla, ma per cani di taglia grossa che sono in grado di distruggere magari l'esterno di queste palle automatiche in pelo o che comunque solitamente strappano le palline da tennis o distruggono quei giochini in gomma col sonaglio all'interno e rischiano di ingoiare anche il sonaglio, sarà bene utilizzare una palla molto molto resistente. In questo caso vi parlo di Kong Xtreme a forma di palla, come ben sapete Kong è una marca, un brand che produce giochi per cani in gomma di cauccio veramente resistentissimi e si distinguono per i vari colori, quelli pappi per i cani di piccola taglia e usi cuccioli sono in genere rosa o azzurri, quelli per i cani già adulti però che non sono troppo distruttivi saranno di colore rosso, mentre quelli neri sono in gomma super resistente per cani veramente mordaci che tendono a distruggere in genere tutti i giocattoli. Quindi vi consiglio questa palla che vedete qui della Kong e vi metto sotto il link in descrizione su dove acquistarla, questa è fantastica, resistentissima e potranno giocarci per mesi e mesi senza dover cambiare il giocattolo. Spero che questo video vi sia stato utile, come sempre vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e condividere il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo e se non l'avete già fatto mettete la zampina sulla campanella del canale così da rimanere sempre aggiornati sui video che pubblico. Grazie e al prossimo video da me ed Ellie che gioca qui sotto. Ciao ragazzi!